Ben ritrovati di nuovo insieme per la seconda parte del nostro appuntamento della sera, vi ricordo ancora una volta lo faccio sempre il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione, basta inviare una mail ad angolichiocciolaespansionetv.it Il nostro ospite, un amico che torna ed è sempre un piacere ritrovare il professor Giuseppe Perone, ciao Giuseppe, ben ritrovato anche questa sera Buonasera a te e ai nostri telespettatori Lo ricordo sempre quindi lo faccio anche questa sera, tu sei primario di oculistica presso la clinica Villa Prica a Como, ma senti io questa sera vorrei chiacchierare con te E di altro vorrei aprire una parentesi un po' più personale, ti conosciamo molto bene come grande professionista, ma la domanda è, il professor Giuseppe Perone, chi è prima di diventare il professore che noi conosciamo e che viene a trovarci qui? Mi piace ricordare in primo luogo le mie origini, estremamente semplici di cui vado orgoglioso più di ogni altra cosa Sono un uomo del sud, della terra del sud, con origini contadine, che a un certo punto, intorno agli anni Ottanta, per uno dei due motivi per cui l'umanità si sposta Le due motivi sono o il lavoro o l'amore Certo Io lavoravo giù in Meridione e facevo il fotografo, ho sempre fatto il fotografo sin da piccolo Quindi le lenti comunque stavano sempre nella tua vita Sì, il mio punto di osservazione era sempre quello, l'occhio E a un certo punto conosco l'attuale mia moglie perché siamo ancora insieme È lei, da sempre Fortunatamente, da sempre E decido di venire qui Venire qui mi sono innamorato di Como, devo dire la verità Anche perché in quegli anni, la prima volta che sono venuto a Como nell'Ottanta C'erano i campionati di pattinaggio su ghiaccio e la città di Como era uno splendore Io sono rimasto affascinato Tant'è che quando i miei genitori mi hanno detto, ma dove vai? Io ho detto, guardate, vado in una città meravigliosa È la città del sole di Tommaso Campanella In effetti io rimasi affascinato da questa città Come l'hanno presa i tuoi genitori? Vabbè, come tutti i genitori Certamente non bene, però la mia voglia di fare era tale Devo dire la verità, io inizialmente sono venuto qui per lavorare Perché il mio socio aveva una piccola tipolitografia Quindi volevo lavorare con lui Poi il mio socio invece, e soprattutto mia moglie Mi hanno detto, ma perché non continui a studiare? E io ho preso, non me lo sono fatto ripetere neanche due volte Mi sono iscritto all'università nell'Ottantadue E mi sono lavorato nell'Ottantasette Ma come e perché ti sei appassionato a questo percorso in oculistica? Il mio maestro, che è il professor Bertè Che ha seguito, ecco io amo quest'uomo più di ogni altra cosa Più di me stesso Questo è stato il mio maestro Mi ha insegnato tutto dalla vita E quando io gli dissi prof Lui era un docente universitario molto importante, molto influente E quando io gli chiesi prof cosa faccio nel mio futuro Lui mi disse Giuseppe fai qualcosa che dipenda solo dalla tua capacità Fai il chirurgo e fai la chirurgia più difficile possibile Quindi o la neurochirurgia o l'oculistica E io gli dissi ma perché questa scelta? Dovrei fare questa scelta? Perché lui mi disse non dipenderai mai dalla raccomandazione politica Perché in sala operatoria se sai fare, sai fare Puoi essere mio figlio, puoi essere il figlio di un contadino Se non sai fare, non sai fare E fu Hai trovato riscontro in questo consiglio poi nella tua vita? Io sono un uomo libero, sono sempre stato un uomo libero Non ho mai avuto una tessera politica Ho detto molti no Mi sono scontrato molto nella mia vita Tieni presente che quando io iniziai la chirurgia refrattiva negli anni 90 Fui allontanato dall'università Perché in quegli anni la chirurgia refrattiva non era ben vista Perché? Perché era una chirurgia innovativa Era una chirurgia che poteva rendere grandi anche i cavalli pazzi come ero io Perché se tu sapevi muore le mani e innovare Come ho fatto io negli anni 90 Quando ho aperto il primo centro di chirurgia refrattiva In assoluto con un laser innovativo Ecco, eccolo qua Questa è un'immagine che è stata il mio trampolino di lancio Questo è un laser, il primo portato in Italia Era un laser flying spot che poteva correggere l'ipermetropia Il primo laser in assoluto in Italia E la mia intuizione è stata quella di aprire un centro Con questa tecnologia Che io noleggiavo a tutti gli altri chirurghi Ho insegnato a tutti gli altri chirurghi Anche se oggi fan finta di non ricordare Però non c'è oculista nella provincia di Como, Varese, Sondrio Che non abbia un attestato che è stato presso la clinica Le Betulle A fare un corso dal professor Perone per la chirurgia refrattiva Sono pochi che possono dire il contrario Giuseppe tu sei, e lo sei sempre stato, un grande pioniere dell'innovazione L'hai detto molto bene Era l'unica strategia per arrivare in alto Senza avere dei cromosomi Perché purtroppo la medicina si muove E lo vediamo ancora in questi giorni Con gli scandali di Perugia O per raccomandazione O per cromosomi Quindi c'è poco da fare Io mi sono sempre allontanato e distinto da questa cosa Quindi quando ho messo questo centro di chirurgia refrattiva Ho subito catalizzato l'attenzione della comunità scientifica italiana su di me Ho iniziato a frequentare congressi Ho iniziato a operare in diretta Ho iniziato a fare delle cose innovative Queste cose diedero fastidio all'Università di Pavia Fui allontanato Poi dopo fui nominato professore all'Università di Pavia Per meriti chiari Perché allora l'università non aveva la tecnologia che avevamo noi E quindi iniziò il mio percorso anche universitario E sono rimasto legato all'Università di Pavia Sino ad oggi E conto ancora di non mollare l'Università di Pavia Dove io torno sempre a fare lezione con grande grande gioia Da lì poi sono scaturito in tutta una serie di percorsi Le prime tecnologie di laser a fento secondi per i trapianti di cornea Mi piace ricordare che il primo trapianto di cornea In anestesia locale, topica, solo con delle gocce Col fento laser in assoluto al mondo È stato eseguito nel 2004 Presso il mio centro di Saron E poi da allora tutta una serie di strategie chirurgiche Messe a punto da noi Dalla DMEC fatta col fento laser Alla lamellare fatta con il fento Questo è il primo trapianto di cornea Fatto con il fento laser nel 2005 Col mio maestro E questi sono invece i miei amici di sempre Tennis Boss in Germania Il Filippo in Carbone E ormai la nostra è una famiglia Ecco, ci sono stati a tal proposito degli incontri professionali Proprio degli scambi di informazione Che hai ritenuto utili per questo tuo cammino verso l'innovazione Qualcuno che con te l'ha condiviso E avete davvero portato avanti Nella mia vita ho avuto tantissime persone A cui devo tanto Il professor Bertè, il professor Trimarchi Mio suocero, mia moglie Prima di ogni altra cosa C'è una persona però che nomino molto molto poco Con cui ho passato la maggior parte del mio tempo E continuo a passare la maggior parte del mio tempo Ed è Filippo Filippo in Carbone Un dottore, un medico Un grande medico Il più grande in assoluto che io conosca Che tutte le mattine si sveglia con me Perché tutte le mattine facciamo colazione assieme Perché ancora oggi dopo 35 anni di lavoro insieme Abbiamo la gioia al mattino Di incontrarci Per scambiarci le nostre esperienze Il nostro è stato un percorso Noi, sia io che il Filippo Non abbiamo avuto maestri Dal punto di vista chirurgico Quindi oggi noi siamo fieri di rappresentare Quei pochissimi oculisti in Italia Che operano dal trapianto di cornea Al distacco di retina Con assoluta padronanza Noi abbiamo una casistica impressionante La nostra casistica è invidiabile Tieni presente che io a 50 anni Sono stato nominato maestro dell'oftalmologia italiana Che è una cosa insolita Normalmente è un riconoscimento Che quei quattro che hanno in Italia Ce l'hanno a 70 anni Io l'ho avuto a 50 anni Quindi un momento indelebile della tua carriera Che ricordi con gioia La casistica chirurgica che abbiamo io e il dottore in carbone È di pochi, pochissimi Perché andiamo dalla keratotomia radiale Alla DMEC Dal trapianto di cornea all'impianto sclerale Abbiamo tutte le chirurgie che noi facciamo A noi fanno ridere ogni tanto quei pseudo chirurghi Che si spacciano come tali Perché fanno il cross link Che è una tecnica di una banalità estrema Cioè una scimmia la farebbe Perdonami Posso permettermi il lusso di ridere Perché ti ripeto Io sono uno dei pochi Che fa dal trapianto di cornea Al distacco di retina Quindi è un dato di fame Quindi insomma ci sta davvero molto Quindi il Filippo rimane una persona fondamentale E poi l'altro incontro meraviglioso Che ha arricchito la mia vita È stato quello di Fra Fiorenzo Che mi ha aperto il mondo dell'Africa Dove io da 20 anni Mi occupo in modo attivo Di bambini E di tutto quello che mi gratifica Vale a dire Rendermi disponibile per il prossimo Senti siamo davvero quasi in battuta conclusiva Ma visto che citi questo altro tuo mondo Tanto importante Le tue giornate Che probabilmente iniziano molto molto presto la mattina Sono più felici quando ti svegli qui a Como O quando ti svegli in Africa E stai con questi bambini? Da tanto Da tantissimo tempo che le mie giornate sono sempre felici Perché ho la consapevolezza di me stesso E di chi mi circonda E ho allontanato tutto quello che è inutile Quindi ho l'essenziale in Africa E ho l'essenziale qui La mia famiglia, i miei amici Il mio entourage Con il quale interloquisco serenamente Perché torno a ripetere Ho abbandonato da un bel po' tutto quello che non serve E anche questa è una bellissima considerazione Io ringrazio per essersi raccontato qui ad Angoli Il professor Giuseppe Perone Che spero come sempre di rivedere molto presto Ogni volta che vorrai Grazie E grazie anche a voi Rimanete lì tra pochissimo C'è l'informazione Grazie a tutti